Spoltore e Angolana danno vita a un derby avvincente. Entrambe le formazioni sono a caccia del bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Subito in avanti in Eralzurri al quarto minuto con Cichella che trova un euro gol e batte Palena. Giro di lancetta e nuovamente l'Angolana vicina al raddoppio con il tiro a giro di Ciarcelluti ma il super intervento di Palena salva Iazzulgrana. Alzano la pressione gli uomini di Mister Di Camillo al dodicesimo. Petralulo servito da Zanetti entra in area di rigore e chiama all'intervento Puddu. Sborgia Arpiono ha un pallone a centrocampo e innesta planamente. Rientro sul destra e conclusione che Puddu respinge sulla ribattuta si avventa Selva Allegra ma nuovamente il numero uno ospite salva il risultato. Il pareggio dello Spoltore arriva al minuto 31 assist perfetto di Colecchia per Petralulo che con il destro ad incrociare batte l'incolpevole portiere ospite. Primo gol in maglia azulgrana per il bomber marchigiano. Giro di lancetta e Spoltore vicino al raddoppio. Nuovamente invenzione di Colecchia per Planamente che si trova solo davanti alla porta completamente sguarnita ma incredibilmente manda a lato e al minuto 36 arriva il 2 a 1 Selva Allegra per Sborgia controllo del numero 6 e con il sinistro Fredda Puddu per il 2 a 1. E con le immagini montate da Flavio Forcelle se passiamo alla ripresa Spoltore subito in avanti al decimo minuto Colecchia il grande protagonista della gara serve un bel pallone per Selva Allegra controllo rientro sul destro tiro a giro che trafigge nuovamente Puddu al minuto 14 Farindolini solo davanti a Palena sembra tutto fatto ma il portiere di casa con un grande intervento sventa la minaccia parte il contropiede dello Spoltore cost to cost di Colecchia che innesca Petralulo tocco sotto e 4 a 1 quando la partita sembra in ghiaccio ci pensa il solito Miani a riaprire la contesa al minuto 22 di testa realizza il 4 a 2 e 13 minuti dopo sempre di testa realizza il 4 a 3 si alza il forcing dell'angolana ma Milizia si fa cacciare al minuto 39 per questo calcio ad un avversario vanificando la pressione dei suoi e al triplice fischio finale succede quello che non vorremmo mai vedere gli spoltoresi esultano chiacchiaretta forse dice qualcosa di troppo scurti gli rifila un calcione e da lì parte un parapiglia sedato a fatica dai dirigenti delle due squadre mister Paolo Rachini di certo oggi non ci si è annoiati sul 4 a 1 per lo Spoltore la partita sembrava terminata poi la sua squadra ha avuto una reazione vemente e siete andati vicinissimo addirittura al pari sì mi dispiace perché ripeto noi la partita per 25 minuti nel primo tempo l'abbiamo comandata nel senso che comunque abbiamo fatto gol e creato i presupposti per raddoppiare nel momento in cui poi un po' abbiamo ci siamo accontentati e abbiamo fatto giocare lo spoltore abbiamo fatto un errore gravissimo sia nella seconda parte del primo tempo ma anche a inizio secondo tempo che poi prendi due gol vai sul 4 a 1 le partite sono compromesse nonostante questo comunque noi abbiamo giocato fino alla fine come dici tu secondo me anche per per le occasioni create meritavamo anche il pareggio niente peccato e guardiamo avanti con con fiducia perché ripeto la mia squadra gioca a calcio però deve migliorare in alcune situazioni soprattutto quando quando ci dobbiamo difendere esordio vincente per mister di camillo con però nella finale tanta tanta sofferenza tanta tanta sofferenza perché sul 4 a 1 pensavamo di averla di averla vinta invece comunque abbiamo abbiamo di fronte una squadra che anche domenica ad Avezzano fino alla fine si è giocata la grande forse meritava anche il pareggio lì e vabbè comunque ha gente di categoria Miani un attaccante che in questa categoria farà golla anche dopo i 40 anni però era per noi una una vittoria troppo importante e fondamentale